Nacque a Napoli il 25 marzo del 1928 da una famiglia di origini tedesche da parte paterna. Dopo gli studi presso l'Università Federico II, non terminati, si trasferisce a Roma, entrando nel mondo della radio con l'incarico di radiopresentatore e attore di radiodrammi. Esordisce anche sul palcoscenico con opere dialettali ed avanspettacolo per poi cimentarsi con Ottimi risultati e rappresentazioni di prosa grazie alla partecipazione in compagnie importanti. Capitanate dai più noti nomi dell'epoca, quali Peppino De Filippo, Turi Ferro, Mario Scaccia e Giorgio Albertazzi. L'esordio sul grande schermo arriva agli inizi degli anni 50 con piccole parti in molte. Commedie, spalla di lusso e valente caratterista. Nella sua carriera quasi cinquantennale partecipa a circa 60 film, spesso con interpretazioni di notevole spessore. Vanno ricordate le partecipazioni a film di Fellini, Germi, Bevi l'acqua, Vittorio De Sicca e Comencini. Muore a Roma l.8 ottobre 1998. All'età di 70 anni, in seguito a un collasso cardiaco presso l'ospedale San Filippo Neri, è stato Paolo Villaggio, compagno di tanti successi, a comunicare la notizia alla stampa pronunciando queste parole. Villaggio dedicherà alla sua memoria Fantozzi 2000 la clonazione, l'ultimo film della saga fantoziana, nel quale non compare la figura del ragionier Filini.